Emoca, politica, derogalizzazione! Viste piano e lotta, viti nella lotta! Viste piano e lotta, viti nella lotta! Viste piano e lotta, viti nella lotta! Viva la rossa! Viva la rossa! Se non ce l'hanno data venerdì, lo avranno la prossima settimana! E' una cosa vergognosa! Alla Regione Sicilia, ai deputati, al Presidente Progetta, diciamo venite qua! Dateci una mano perché se no la lotta diventa ancora più esasperata! Venite, i nostri spazi, la nostra area, non ci rinforziamo con nessuno, nei conti né con altri! Viva la rossa!